Il Morazzone ospita la Baranzatese nell'anticipo della sesta giornata di campionato. La squadra di Rovellini, galvanizzata da un ottimo avvio di stagione, vuole mettere i bastoni tra le ruote a quella del patron Paolo Di Nunno, che è iniziato con 5 vittorie su 5. Prima occasione proprio dei padroni di casa, italiano dopo uno scambio con Ghizzi, va alla conclusione. Il tiro del numero 10 finisce a lato di un nulla. Applausi dal pubblico mentre la Baranzatese replica su corner, ma girare di testa è dastoli che rischia l'autogol. La Baranzatese aumenta i giri del suo motore. Tiro da fuori di Romeo, alto non di molto, con applausi comunque per il numero 8. Poi Pieri che rientra nella parte centrale del campo dopo aver controllato così il pallone, ma il suo destro va a sua volta alto sopra la traversa. Baranzatese che si conferma però forte e cerca il gol con insistenza, ma sul tiro cross dalla destra. Il pallone finisce a lato di un nulla della porta di Martignoni. L'occasionissima per andare in vantaggio però ce l'ha il Morazzone. Lancio lungo di Rizzato per Giordano, il numero 11, entra in area di rigore e prova il pallonetto su Englaro, col portiere che però successivamente frana su Ghizzi. Per l'arbitro è calcio di rigore, indicando il dischetto e ammonendo proprio il numero 1 della Baranzatese. Dagli 11 metri va Ghizzi, che però stavolta tradisce, mandando a lato. Nel finale di frazione c'è tempo anche per l'ultima chance per la Baranzatese, ma da Polito è troppo timido in area e non riesce a concludere in maniera efficace. Con le immagini nella ripresa che si apre con questo tiro da fuori di Capogna, il bomber viene più indietro nel tentativo di toccare più palloni, ma da lì fa meno male. Ma è sempre la Baranzatese a creare grattacapi, Brignola e Lombardo non riescono a girare verso la porta alla punizione di Romeo, pur in fuorigioco. Si gioca praticamente a una porta sola, Martignoni vola su una conclusione da fuori area destinata sotto l'incrocio, mentre il Morazzone prova a farsi vedere con la serpentina di Bettanello, che poi si fa ingolosire dal tiro in porta. Palla alta, ma grande personalità per il classe 2006. La squadra di Rovellini prende fiducia, tiro da fuori area da parte di Rizzato e clamorosa traversa col pallone che torna in campo, ma il gol è maturo, arriva al minuto 36, Italiano gira attorno a un avversario, scocca il destro e manda il pallone sotto l'incrocio dei pali, portando in vantaggio il Morazzone. Gol d'antologia per il numero 10 che viene sommerso dall'entusiasmo dei compagni e di tutto il pubblico di casa. 1-0 Morazzone con 10 minuti da giocare esulta Italiano col pubblico che lo incita. La Baranzatese reagisce in maniera vehemente cercando il pareggio, Lillo cade in area chiedendo un rigore che però non viene concesso dal direttore di gara. Il fantasista giallo-blu è protagonista anche nell'azione successiva armando il piattone di Capogna che però finisce a lato. Infine sull'ultima azione arriva il contatto tra Betanello e Medici dopo questo scarico. Eccolo qui, il contatto col direttore di gara che stavolta concede il calcio di rigore. Dagli 11 metri va Capogna che però manda clamorosamente alto mancando il pareggio e facendo nuovamente esultare il pubblico del Morazzone che esulta ancora di più sull'ultimo brivido corso proprio il colpo di testa di Capogna che va ancora alto e si scatena quando arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Morazzone. Vince 1-0 contro la Baranzatese.